Siamo nell'ardente pallare ad assaggiare il piatto tipico della zona che è il lisotto in realtà non ho preso proprio quello tipico perché quello tipico è all'aglio e olio e se mangio sto male due giorni quindi no ho preso quello dolce alla crema di nocciole assaggiamo è bello invitante dallo caldo come smolliccio è smolliccio pensavo di poterlo tirare su ecco perché mi hanno dato le posate allora facciamo una bella cosa tagliamo allora una consistenza e hanno detto che è una specie di impasto tipo quello degli gnocchi ma in realtà ha una consistenza che è una via di mezzo tra la crepa e la piadina è uno smolliccioso è strano infatti è vero sembra uno gnocco spalmato è buono chissà se si riesce a trovare anche fuori della sagra apposita perché in pratica ho fatto un'ora di coda per questo per andare a che neanche lo vuole mangiare quindi eh ma poi l'assaggi sì ok allora te lo faccio assaggiare subito wow no 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 non lo voglio intanto poi si mangia il mio mi hai capito il risotto liso ma veramente a me pensavo ci fossero entrambi ma stai scherzando? sì ma non c'era voglia di mangiare lo stesso ma intanto te lo mangi devo assaggiarlo poverino che ti trascino la domenica fuori sentire il karaoke che hai visto i vecchi no si hanno dovuti scappare perché c'era un karaoke un po' ghiacciante no ma allora le due signore erano brave ma poi erano canzoni tristi alla festa degli anni sessanta infatti c'era un signore degli anni sessanta che si lamentava perché dice che erano canzoni troppo vecchie e mosce quindi ah così una guarda che è cioè mangiarsi tutto quel pezzo intero così e perché è tipo gnocco non ti piace? mi è arrivato il senso di gnocco adesso eh preferisco la crepe anch'io forse preferisco la crepe però è particolare non è è male poi arriva alla fine un po' troppo gusto di gnocco di pane ma perché secondo me ne devi mangiare meno cioè non una sbocconata così alla volta quantità di cioccolato è quella comunque se capitate qua a pallare durante la festa del lisotto perché non provarlo? costato due euro cioè quindi anche ah però intanto prosegui non ho fame non lo voglio ma forse mangio le castagne dopo questo ha detto vabbè saluta e Sì, 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 sì.